Una giornata speciale, quella vissuta all'ospedale Fragastoro di San Bonifacio, visitato dai Vescovi di Vicenza e Verona, Cesare Nosiglia e Giuseppe Zenti, insieme a numerose autorità provinciali e regionali, in occasione delle celebrazioni per San Camillo dell'Ellis, patrono degli ammalati e degli operatori sanitari. In un ospedale come questo, al centro, ci deve essere il malato, ci deve essere la sua esigenza, le sue necessità, e tutti gli operatori sanitari sono chiamati, sì, ad essere professionalmente preparati, a dare tutte le tecnologie necessarie per superare le malattie, ma soprattutto ad avere un rapporto, una relazione profonda, autentica, con ogni malato a cui sono chiamati a donare veramente tutto l'impegno, profondendo, sì, alla loro competenza, ma alla loro umanità. Questi sono momenti delicatissimi, in cui uno si confronta con se stesso, con la propria vita e possibilmente anche con il termine della vita terrena, che gli sia dato occhio per oltrepassare quella barriera della vita terrena, come si chiama appunto la morte, e che ci aiuti ad entrare, aiuti ognuno, e quelli che sono malati, anche gravi, a guardare nell'oltre, è nell'oltre che sta la risposta vera al senso del vivere presente. In rappresentanza della Giunta regionale è intervenuto con l'assessore alla sanità Sandro Sandri, che in una giornata dedicata principalmente all'umanizzazione delle cure, ha posto al centro dell'attenzione il valore professionale e umano di tutti gli operatori, come elemento fondamentale dell'eccellenza che viene universalmente riconosciuta alla nostra sanità. Questo progetto nuovo viene a creare un nuovo modello di assistenza e di accoglienza nei confronti dei pazienti, ma soprattutto un nuovo rapporto del sistema ospedaliero con il territorio. Noi come personale ospedaliero cerchiamo di dare la massima attenzione all'argomento, l'umanizzazione è fondamentale a margine, a fronte delle cure che vengono espletate all'interno dell'ospedale. La visita dei due vescovi non fa altro che sottolineare questo argomento e noi ci auguriamo come personale sanitario, tutti di qualsiasi ruolo e genere, di andare sempre meglio in questa direzione. Nel corso della mattinata i vescovi Lusiglia e Zenti, l'assessore Sandri e molte altre autorità, tra le quali l'assessore regionale Stefano Valdegamberi, il presidente della Commissione Sanità del Consiglio Veneto Raffaele Bazzoni, la sindaco di Verona Flavio Tosi e il presidente della provincia Giovanni Miozzi, hanno anche visitato vari reparti, tra i quali pediatria, geriatria, lungodegenza, terapia intensiva.